ciao a tutti ragazzi benvenuti qui dal vostro per game per un nuovo video oggi vi mostro un nuovo metodo su come guadagnare ascoltando solamente musica praticamente è molto semplice questo metodo è un'applicazione su che ho ovviamente ho trovato due giorni fa su play store e per niente questa applicazione vi fa accumulare dei punti ascoltando i voi ascoltando alcuni brani musicali potete scegliere qualsiasi brano musicale secondo le vostre preferenze oltre ad accumulare punti ascoltando musica potete accumulare punti extra accedendo ogni giorno al questa applicazione oppure guardando ogni 30 secondi dei video di pubblicità dove andate ad accumulare altri punti oppure rispondendo alcuni sondaggi che l'applicazione vi mette a sua disposizione o completando alcune offerte che se la volta l'applicazione mette a sua disposizione o a sua volta giocare in alcuni giochi che praticamente dovete raggiungere alcuni livelli in questi giochi accumulare più di mille punti ogni gioco giocato dopo di che questa applicazione vi fa vedere anche sezione che dove voi andate avete accumulato dei punti ascoltando alcuni brani o completando alcuni obiettivi alcune offerte che la brevemente l'applicazione ha messo a disposizione dove che qui sotto ci sono dei tasti delle sezioni con musica libreria e la sezione dove andò e andate a sbloccare le gif card veramente dopo 4000 points poi andate a sbloccare le prime gif card sono da un dollaro da 3 dollari da 6 dollari praticamente la mano accumula dei punti che in modo semplice se in modo semplicissimo accumula dei punti dopo dopo aver accumulato alcuni punti potete sbloccare queste gif card dove che il modulo più semplice e facile da mostrarvi è quello di apportare man mano portare gente all'interno di questa applicazione guadagnate ben 300 poi ogni pens ogni persona che portate all'interno questa applicazione dopo questa applicazione volevo far mostrare soprattutto alcune prove di pagamento che ho ricevuto in alcune in alcune applicazioni che dove vi ho mostrato nei video precedente tende questa nuova questa applicazione come avete visto v play ovviamente ho riscattato alcune gif card da bene 50 centesimi del totale di un pound del totale di un pound è presente loro riscatta in poco tempo e ben un giorno giocando in alcuni giochi che l'applicazione ha messo a disposizione ho riscattato queste queste gif card dov'è che dopo questo passiamo subito allo special betting dove io praticamente vi do alcune dritte su quanto riguarda la stasera la semifinale di lione bar e monaco dove ieri è stata giocata la prima semifinale l'ipsi appare st giocando in questo c'è più sicuro me 19 2020 il passaggio ma esempio sui 3 0 sull'ipsia dove noi abbiamo andato siamo andati a giocare una scommessa di di quota 1 e 20 a una punta di 22 euro e 60 una vincita di 3 euro e 12 e invece oggi andiamo a giocare lione e bar contro il bar e monaco over 1.5 una quota 1 e 12 giocata a 2 euro 87 una vincita a 3 euro e 21 ricordo che sono delle scommesse giocate in base al nostro metodo che vi ho spiegato nei video precedente quanto riguarda il mazionello che praticamente abbiamo creato una progressione di una cassa all'inizio di 5 euro dove dobbiamo indovinare bene 180 eventi su 200 e abbiamo una vincita prevista di 66 euro con 5 euro iniziali dobbiamo arrivare a 66 euro con una quota media di 1 e 15 è una rendita di 13,28 ne abbiamo giocato ben 53 ne abbiamo indovinato ben 47 e ne abbiamo perso ben 6 abbiamo a disposizione e ancora 14 errori da fare perché il massimo è di 20 errori su 220 dopodiché al video subito le dritte quanto riguarda bet to see fire ci sono da giocare l'over 1.5 o potete anche giocare l'over 1 l'over 0.5 al primo tempo che era una bella quota una buona quota da giocare vi faccio vedere la scommessa di ieri giocata la reale scommessa di giocata è la scommessa di oggi che ho appena inserito bene ragazzi questo è tutto io vi saluto lasciate un like iscrivetevi al canale e lasciate qui sotto un commento facendomi alcune domande se avete riscontrato qualche dubbio e quanto riguarda l'applicazione dell'applicazione che vi ho spiegato oggi su questo video o anche per quanto riguarda lo special betting se avete alcuni dubbi io risponderò immediatamente qui sotto sui commenti oppure potete scrivere sul sui link in descrizione potete trovarmi sempre online o su telegram soprattutto su telegram o su altri social come ad esempio facebook o addirittura su youtube vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo al prossimo video bella ragazzi